Il master plan di 25 milioni di euro porta possibilità per l'IZS. Qual è la programmazione prevista? Intanto siamo riusciti a consolidare con la regione Abruzzo un rapporto importante che negli anni si era perso con l'istituto zooprofilattico e abbiamo consolidato 500 mila euro di rapporti e di finanziamenti per progetti che aveva negli anni precedenti. L'abbiamo portato a 2 milioni e mezzo dando delle risposte anche delle problematiche che riguardavano vari aspetti della regione Abruzzo e creando anche delle relazioni con l'Arta e con il ruzzo nel nostro territorio per l'acqua ma anche con altre enti, questo è importante. E poi abbiamo i 25 milioni del master plan che stiamo attuando, tra poco partiranno gli appalti per la realizzazione in due tranche, due lotti diversi uno sulla nuova sede e uno sulla vecchia. Sulla nuova sede per 17 milioni e mezzo verranno realizzati degli stabulari, delle stalle, dei laboratori che non possono stare all'interno della città, importanti per l'attuazione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali e 8 milioni per la ristrutturazione di una parte della vecchia sede che riguardano anche qui i laboratori e che servono anche qui per attuare delle progettualità. Si è fatta questa scelta per dare una risposta immediata anche delle esigenze che ha l'Istituto di allargare i propri laboratori con riferimento ai progetti che svolge e per conservare all'interno della città anche una parte degli edifici storici quindi qualcosa di nuovo e qualcosa sul già realizzato. L'obiettivo è quello di creare una cittadella della ricerca praticamente e quindi anche riqualificare una zona di Teramo. Diciamo che questa zona ci ospita da anni, la città di Teramo ci ospita da anni è importante quindi che si rimanga anche per dare una risposta in un momento di difficoltà a meno per una parte delle attività e il nostro obiettivo è quello di poterci allargare anche sull'area lasciata libera dall'ex ingrosso della frutta riqualificando quindi il quartiere e creandoci dei laboratori e anche degli auditorium che possono essere utilizzati anche dal quartiere stesso. Questo è un obiettivo che abbiamo e per questo siamo in trattative con il Comune per la gestione dell'area. Dove ci sono già predisposte le lettere, è già tutto quanto predisposto per la risoluzione del contenzioso solo che il commissariamento ha bloccato il progetto? Per ora ha bloccato perché ovviamente abbiamo chiesto un appuntamento al commissario che spero ci diceva quando prima proprio per far continuare perché ovviamente questa gestione riguarda anche la transazione di contenziosi esistenti fra noi e il Comune di Teramo che vorremmo ovviamente definire essendo noi due enti pubblici.